Ciao a tutti appena finita Frosinone Cosenza risultato finale di Frosinone 1 Cosenza 0 Non so da dove partire perché se devo analizzare il primo tempo devo dire abbiamo buttato un punto Se devo vedere il secondo tempo dico abbiamo buttato un punto quindi fondamentalmente mi viene da dire abbiamo buttato un punto Perché il rigore l'hai regalato però guarda caso anche oggi è un arbitraggio un pochettino come dire contrario a noi Però va bene dettagli su alcuni falli tipo fischiati su probabilmente i contropiedi nel secondo tempo Uno sull'arrivere che è qualcosa di clamoroso poi non so se voi l'avete visto in modo diverso ditemelo Partita dei due volti perché ai primi 20 minuti Minelli ha fatto cioè io dove ero stavo tornando ero in macchina Ascoltavo che a partire Cosenza teneva bene il campo eccetera 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 Le solite cose che dicono anche i telecronisti per come dire riempire i vuoti ecco fondamentalmente riempi i vuoti Arrivo se salgo in casa praticamente vedo Minelli fa il paratone della vita su Sull'aurà e uno dice ma questo Cioè sentivo prima Cioè sentivi in macchina Minelli non giocava dal 2020 E io dico no ma un'altra partita in più in panchina non te la potevi fare non era possibile Analizzando tutto guardando le statistiche di Dazzone 15 tiri del Frosinone 3 in porta 5 tiri nostri 4 in porta Palle perse 16 un pochettino tante Palle recuperate da una parte nostra 15 Possesso palla te la sei giocata Quindi statistiche alla mano Hai perso un punto E anche guardando la partita perché Ristov anche uscendo dal campo Ha come dire chiesto scusa a tratti Dicendo io non l'ho toccato io non l'ho toccato Anzi mi ha bloccato il braccio eccetera 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 Però devo dire che sta partita Ora a noi posso riempire il fatto che siamo stupidi Cioè stupidi calcisticamente parlando ecco perché Non capiamo i momenti della partita Oggi soprattutto non abbiamo capito i giocatori in campo Ovviamente non hanno capito Alcune parti della partita Dove bisognava stare un pochettino più attenti Dove bisognava un pochettino lasciar correre Dove si poteva far di più Però hai perso oggi Il Frosinone Diciamo che nell'ultimo periodo Sentivo anche la telecronica quindi Per dire che ce l'hanno pure gufata Che il Frosinone con noi in casa non aveva mai vinto Un pareggio è una vittoria Nell'ultimo periodo ovviamente Un pareggio è una vittoria nostra E oggi abbiamo perso Classico Classica gufata Passi indietro a livello di gioco no Perché grinta ne ho vista Florenzi secondo tempo scarico Ha perso un paio di palloni Infatti Bisoli l'ha tolto subito Ora sto rivenendo di nuovo all'occasione del rigore Beh Per me è il rigore tutta la vita fondamentalmente Ristop si può lamentare quando vuole Quanto vuole però Da un difensore titolare della Bulgaria Non mi aspetto una cosa del genere Guardando dietro Anche il Crotone ha perso Quindi dici Non hai perso punti Guardando avanti dici L'Alessandria ha riguadagnato un punto E un pochettino ti sale nervoso Perché Scusate Con tanta fatica eri riuscito a Riattaccarti al treno E con tanta sfortuna E praticamente ci hai messo del tuo Questo treno Ha fatto un passettino in avanti Ovviamente Ora abbiamo un calendario abbastanza duro Perché Avere Lecce e Benevento in casa È abbastanza complicato E poi sto ciclo Se non erro Si conclude col derby Con la regina Se non erro Quindi diciamo anche a livello di Calendario Non ti è andata benissimo Perché guardando l'andata Dici Cavolo hai fatto punti 15 punti Nelle prime partite Sì Ma hai giocato con squadre Che con occhi Sì ovviamente al ritorno Non abbiamo fatto Abbiamo pareggiato Barra perso E Se non erro No Come ci abbiamo già giocato Perdono Mi era partito uno svarione Cioè Minelli fondamentalmente Ha fatto due parate Che non esistono Ora ne riguardava un'altra Ha fatto due interventi Che non esistono Ripeto Grinta Buono Gioco Buono Primo tempo Secondo tempo Abbiamo lasciato un pochettino Troppo il campo A Frosirono E L'hai persa Perché forse La troppa foga Perché un rigore del genere Potevi tranquillamente Stare un pelino più attento Sicuramente sì L'hai persa Perché Tribuzzi è entrato Con più foga Rispetto a Ristov Che dal primo minuto Mi sembrava un pochettino Così Mi sembra Anche questo Però Guardando Complacevo Sto guardando Scusate Ora ritorno Sto guardando L'azione di Laura Che se ne salta due Tira E Minelli Fa l'ennesima parata Quindi fondamentalmente Hai avuto due grandissime occasioni Dicevo L'hai persa Perché Non sei stato cinico Cosa che tipo Ti era successa Con l'Alessandria Anche se con l'Alessandria Avevi creato Ma non è riuscito A sfondare Peccato Peccato Perché Spero non mini A livello mentale Ma Bisoli Già ho visto Che è entrato In campo Ha detto Dai 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 Ragazzi Non fa niente Avete giocato bene Andiamo a ringraziare i tifosi Quindi già questa sorta Di attaccamento Mi fa capire Che L'umore all'interno Della squadra È buono Speriamo Soprattutto Che La grinta Messa in campo Oggi E nel secondo tempo Con l'Alessandria Si rivedano Sabato Si Al Marulla Contro il Benevento Se non erro Si Benevento Contro il Benevento A Cosenza Speriamo Speriamo Perché Sono campi difficili Sono partite difficili Lo sappiamo tutti Però Fondamentalmente Devi fare punti Perché Se anche l'Alessandria Ha fatto punti Col Benevento Tu non devi essere da meno Cioè Sarebbe un'impre Cioè Guardando Realisticamente La cosa potrebbe essere un'impresa Perché Loro hanno Faccio un nome su tutti Parlo dell'Alessandria Un Marconi Che tu fondamentalmente Non hai E che non hai Dai tempi di Riviere Però Ci devi provare Ci devi provare Non partiamo Secondo me Sconfitti Poi alla fine della fiera Ne prenderemo quattro Pressegnatevi Questa previsione Se il prossimo video Si chiamerà Disfatta totale Quattro a zero È colpa mia Perché ho dato le quote È nulla Cioè Non mi posso arrabbiare A parte Corriso Però Cioè L'incazzatura è stata lì Nel momento in cui L'abbiamo preso col rigore Perché Fondamentalmente Lui lo poteva pure Lasciare andare Perché la difesa Nel senso Lui ha fatto un intervento Stupido riguardandolo Perché In mezzo Ho rivisto l'area Era pieno di giocatori Ovviamente Due o tre attaccanti Loro c'erano Però c'era Tutta quanta la difesa Schierata Quindi Non dico Farti saltare Ma accompagnalo Non fare quella cosa Terribile Che ci è costata la partita È mancato Rigione Oggi Se giocava Rigione Sicuramente Non avrebbe giocato Ristov E quindi Non sape Se è una sorta Sono quelle Sliding doors Che non sai mai Come Possono finire Però Bisoli Devo dire Che è andato Si è andato a carezzare i suoi Spero che Ripeto Spero che Sta partita Non mini la squadra Ecco Soprattutto a livello mentale E nulla Ci aggiorniamo alla prossima Ricordo Frosinone Cosenza Finita 1-0 Per il Frosinone E nulla Ci sentiamo Alla prossima